35 secondi stiamo facendo go mi piace iscrivetevi al canale ragazzi un bel commentino è go è go no non è go ma adesso invece gli ventini sto fomentando a torino felipe salta no bravo bello peroncino peroncino il peroncino il peroncino ed ecco che parte la sigla dell'Europa Libre che stiamo facendo stasera ragazzi chiedo un video che uscirà domani forza ragazzi no si forse cambio posto ragazzi potrebbe avvenire si sposta quello no non lì si si così ti va davanti lo schermo si e il filone non si vede si 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 c'è bravo! oh! giallo C e roma merda e roma roma merda non cazzo fa non cazzo palla non faccia ma poi ma manco le regole del fantasma guarda C come cazzo fai senza palla senza niente questo è un altro giallo ah ieri ho scritto certamente cose che rimbarzano con la R oh fortissimo che sentire? la leggo a me mi pare che sta parlando con fu quel cazzo di caccia di punizione oh! che cazzo fai? eri imbarzata davanti che cazzo? l'arco 2 proprio davanti oh mamma mia eri imbarzata eri imbarzata la facciamo subito la facciamo subito ma guarda guarda che spallu ha fischiato quello ha spinto Milinkovic e Milinkovic ha messo le mani avanti perché io non ho sbatto il giusto a quell'altro e quella che so che te la palla ma non lo fare ragazzi c'è una cosa la ruta bravo dai che buona no guarda dio ma mai l'aveva fatto questo è un cazzo di robot no bravo Marcos dai un per cazzo continuata raga ma che cazzo me frega l'ha fatto un cazzo questo e dai bravo Patrick mamma mia no Luiz dalla mezzo dai uno qui questa è la palla ma come cazzo fa questa è la palla lo sta fuori lo ha fatto la spalla la spalla che ha fatto la manca mezz'ora dai 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 bravo oh oh giallo ci guarda che palla de merda guarda che palla de merda oh devi sci da la devi sci da la oh ammazza sei come un testa de cazzo taci vostro oh oh ammazza oh ammazza oh ammazza ragazzi è possibile dai oh ci riuscivo a giocare come al primo tempo ci avevamo parlato noi dai yey parco due oh la raga stanno sbagliando tutto dai ma perché forse a servicino bravo dai 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 una cacca bella che è sta cacca bella questo che è don'tomagio il gervinio si dice ma non giochiamo più sulle facce dai dai io la prendo lì il pomada vuoi chiamare il pomada il pomada ma si che poi perdi cortorina ma che porco due non sta a fare più niente bravo bravo dai vai gioca non c'è prima cazzo ma ce l'ho morto non c'è prima cazzo guarda oh giallo fuori ma c'è la rischiata qua parco due non c'è guardalo no ci sono poi a tutti c'è che più cazzo buono buono a sergio oh eccolo ragazzi avvicinatevi tanto non crossamo niente all'area dai dai ci posso crede ha trattenuto oh ma scusa il bar non può intervenire dai porco due giro più attivo dai 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 e che cazzo dai tira ma perché manda la mia città porco 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 di